ciao a tutti bentornati sul mio canale benvenuti in questo nuovo video allora oggi parliamo di n di e ma invece di parlare di un singolo caso vediamo le conclusioni quasi definitive dello studio fatto dal dottor pin vallomel un cardiologo rianimato re olandese fra le altre cose uno dei punti di riferimento della cardiologia europea quindi non l'ultimo arrivato sulla piazza come si direbbe in inglese un pc di di quelli un phd per dirla in italiano di quelli di altissimo grado poi verrà quello che mi dirà che nello pronuncio bene ma io parlare la lingua della perfida albione faccio assai fatica come chi non piace la matematica me non piace la pronuncia va bene bando comunque alle ciance e vediamo un attimino quali sono queste prove e secondo lo staff di medici e rianimatori che hanno seguito per vent'anni lo studio fatto insieme al loro capo appunto cardiologo pin vallomel quali sono le conclusioni quasi definitive al quale sono arrivati tanto da chiedere alla scienza e alla medicina ufficiale di dichiarare che la coscienza non è nel corpo fisico non è nel cervello ma una virtù di cui il cervello fa da ricevente quindi è una cosa a sé l'anima lo spirito chiamatela come volete ha una vita a sé e andiamo a vedere perché come fa pin vallomel e suo staff a pronunciarsi così talmente tanto avanti da potersi permettere di richiedere questo alla scienza e la medicina ufficiale allora innanzitutto dobbiamo dire che pin vallomel ha fatto questo studio per la durata di 20 anni cioè nel frattempo che lui esercitava la sua carriera medica e aveva cominciato a riscontrare questa casistica e come san parmi ha fatto questo studio per poter vedere se c'erano dei ritmi di tempi maggiori utili per rianimare le persone in caso di arresto cardiorespiratorio lo stesso pin vallomel dal punto di vista medico ha sempre cercato di capire se c'era qualche possibilità in più realizzando poi attraverso i propri studi che l'uomo è di più di quello che è fisicamente come è successa questa cosa allora innanzitutto lo studio che è iniziato nel 1986 è terminato in linea di massima nel 2001 cioè nel 2001 la prima tesi prodotta da questo studio mi dispiace che youtube non dà la possibilità di pubblicarla ma ve la metto qua intanto poi vediamo se trovo un modo magari la pubblicherò interamente sul canale telegram quindi nei link di iscrizione trovate il canale telegram se volete partecipare e lo studio appunto appena concluso nel 2001 viene un po' di meno che pubblicato sul lancet il lancet una forse non una ma probabilmente la più importante rivista medico scientifica a livello mondiale e questo ovviamente ha dato adito a molta curiosità nell'ambiente medico nell'ambiente sanitario ma anche oltre ovviamente non è stato pin valhomel il primo a fare questo tipo di studi e di statistiche vi ricordo che il primo pionier in assoluto è stato raymond moody junior di cui apprezziamo il primo libro scritto nel 1973 arrivato in italia nel 1974 che è la vita oltre la vita ma andiamo avanti con lo studio di pin valhomel allora pin valhomel ovviamente non è l'unico che l'ha studiato ha un suo rivale una sua nemesi un neuro psichiatra anche questo molto famoso che ha cercato in più di un'occasione di smentire questa questa cosa solo anche il neurobiologo dick france swap spero che si pronunci così ha cercato in di smontare questa tesi questa tesi di studio realizzata dal tutto lo staff di pin valhomel riuscendo però a non dimostrare nulla partendo proprio dal preconcetto che il cervello durante la morte produce delle endorfine produce del delle droghe naturali per le quali si possono essere delle allucinazioni in realtà tutto questo è stato già smentito precedentemente dai vari studi fatti sia da raymond moody junior sia dalla dottoressa elisabeth cubley rose sia da tutti i vari studi anche samparnia l'ha escluso ma lo studio di pin valhomel l'ha escluso proprio perché ha fatto una cattola catalogazione anche di chi avesse preso farmaci non avesse preso farmaci che fosse stato in anossia che non fosse stato in anossia eliminandoli ma la prova principe che ci porta pin valhomel a dimostrazione che la coscienza cioè quella che i neurologi come appunto il suddetto neurologo ritengono un prodotto chimico del nostro cervello quindi i nostri neuroni attraverso gli scambi elettrici gli scambi biochimici producono i ricordi producono la memoria questo contrasta con la scoperta fatta da pin valhomel qual è questa scoperta tutti sanno che dieci secondi dopo l'arresto cardiaco le cellule cerebrali cerebrali perché se no mi viene detto cerebrali le cellule cerebrali cominciano a decomporsi cominciano a diventare instabili e i rapporti biochimici tra neuroni si spengono o meglio rimane una certa tensione elettrica che risulta con i test fatti in negli ultimi anni che dicono che fino a 5 barra 7 minuti a volte in certi casi si trova ancora un residuo di scambio elettrico all'interno del cervello della persona morta quello però che non si dice è che nel giro di 3 5 minuti massimo proprio le cellule nervose del cervello tendono a decadere e quindi difficilmente dopo i 5 minuti si riesce a recuperare una persona ancora sana di mente dopo 10 minuti statisticamente è impossibile rianimare una persona nel senso è possibile rianimarla dal punto di vista cardiorespiratorio ma questa persona sarà un vegetale non avrà più capacità di discernimento e questo succede nel 99,9 casi periodico fatto salvo ovviamente il miracolo o quella situazione appunto che la scienza non riesce a spiegare detto questo pin val l'omel ha fatto uno studio di questo genere sulle persone che stavano rianimando collegate ovviamente a tutte le apparecchiature che dimostravano l'arresto cardiaco e l'elettroencefalogramma piatto per cui dove non c'era neanche questa eventuale energia elettrica residua nel cervello le persone vivevano un'esperienza e fino qua voi direte vuoi vedere che magari non hanno ragione i neurologi che sia appunto la dmt che siano altri prodotti del cervello stesso le adrenaline tutto quello che viene a un cervello morente e che quindi cerca di auto proteggersi ebbene pin val l'omel ha dimostrato che non è fisiologicamente possibile perché perché c'è una cosa che pure i neurologi devono ammettere è che una volta che abbiamo l'elettroencefalogramma piatto cioè che non c'è trasmissione di corrente all'interno del cervello non è possibile non solo non vivere realtà sebbene fittizie creare ricordi creare sensazioni ma soprattutto non è possibile memorizzarle non si possono accumulare ricordi ecco perché una volta la persona rianimata non dovrebbe avere alcun ricordo di quello che è successo ma allora non si spiega come un 20 25 per cento delle persone rianimate abbiano avuto questa esperienza per loro reale e fisica ovviamente al di là delle prove empiriche delle robe dove le persone che sono appunto uscite dal corpo la loro coscienza la loro anima chiamatela come volete uscita dal corpo vedendo dall'alto quello che succedeva vedendo le cose intorno sono già di per sé una prova quello che cercava pin val l'omel era dimostrare appunto che in mancanza di funzione biologica quindi con morte clinica non solo accertata ma protratta nel tempo non era non è scientificamente possibile che la persona non solo viva esperienze ma abbia e ripeto abbia la possibilità di immagazzinare i ricordi queste esperienze quindi la domanda successiva è cos'è che trattiene questi ricordi cos'è che mantiene la persona il carattere e l'osservazione della persona che in quel momento è clinicamente morta e senza nessun passaggio elettrico all'interno del cervello che possa creare un interscambio questa è la domanda che si è posta l'equip di pin val l'omel e ovviamente il seguito a questa domanda è chiedere alla scienza e alla medicina ufficiale che si studi e si cerchi di capire dove fosse realmente la coscienza umana c'è anche di più pin val l'omel ha fatto poi ovviamente dopo lo studio del 2001 che pubblicherò appunto sia qua delle immagini ma sul canale telegra ha sviluppato ulteriori studi nel senso che ha continuato lo sgrossamento dei dati clinici appunto per affrontare confrontarsi con altri medici altri specialisti e cercare di capire cosa realmente succede fisiologicamente perché ovviamente di quello che succede poi trascendentemente cioè nella parte spirituale dell'essere umano non abbiamo ancora possibilità tecniche di vedere e di studiare e confrontandosi appunto con altri ben quattro studi allora lui riporta nella sua intervista che bisogna provare un nuovo approccio scientifico post materialistico altrimenti restiamo bloccati in quella fase in cui o si crede o non si crede ma partendo dal presupposto come fu riscontrato l'atomo l'atomo la particella che si chiama atomo proprio perché la particella indivisibile fu scoperta non già da scienziati non già da da come dire studiosi col microscopio ma dagli antichi filosofi greci che lo teorizzarono pensate un po la stessa cosa perché non avevano gli strumenti scientifici solo poi negli anni 40 nel 1940 43 è stato scoperto che l'atomo era possibile suddividerlo ancora i neuroni protoni e positroni e scusatemi in elettroni protoni e positroni noi neuroni quelli sono qua come il mio neurone che è uno solo allora quattro studi longitudinali progettati in modo identico sia ossia come lo studio olandese di pin val l'omel col quale pin val l'omel si è poi coordinato con il solo corredo di analisi statistica uno statunitense e due inglesi hanno riscontrato quasi la stessa percentuale dnde su un totale di 562 pazienti esaminati sopravvissuti quindi rianimati dopo arresto cardiaco e tutti gli autori hanno concluso e vi cito testualmente che nessun modello fisiologico o psicologico può da solo spiegare tutti gli elementi che queste nd e hanno in comune se ci basiamo sugli studi longitudinali sulle nd e le recenti scoperte della ricerca neurofisiologica oltre che sui concetti della fisica quantistica la nostra coscienza non può essere localizzata in un dato tempo o spazio e questo è esattamente ciò che descrivono i pazienti raccontando le loro esperienze dnde tutto ciò che riguarda il passato il futuro è istantaneamente disponibile ed è per questo che si parla di coscienza non locale al di là del tempo e dello spazio e questa è la richiesta fatta dall'equip del dottor pin val l'omel alla medicina e alla scienza ufficiale aspetto i vostri commenti qua sotto il video ditemi un po se non vi sembra meravigliosa questa questa conclusione scientifica fra le altre cose che ovviamente darà adito a sconcerti a battaglie eccetera ma che ci apre un nuovo modo di vedere anche dal punto di vista scientifico queste esperienze di nd e vi chiedo gentilmente di darmi una mano iscrivetevi al canale che solo il 20 per cento di voi che mi seguite è iscritto mettete like condividete il video sui vostri social venite a trovarmi anche sul secondo canale il pirata dove a volte approfondiamo chiacchieriamo canale un po più amichevole e dove mi conoscerete meglio chi ha piacere può iscriversi anche al canale telegram dove in chat ogni tanto ci si confronta ci si ritrova e ci si scambiano idee pareri e opinioni a tutti un caro saluto ciao da ermanno